Nel tumulto di immagini e suoni del mondo moderno ha ancora senso puntare una macchina da quando iniziai questo film sedici anni fa non mi ponevo la domanda era il mio primo film avrei conosciuto uomini straordinari come il comandante massut non eroi di carta o prodotti commercializzati come se ne fabbricano tanti oggi ho raccolto le tracce di questa singolare avventura per sopravvivere alla falsità che ci circonda e per trovare qualcosa di ancora più prezioso che desidero confidarvi non è il tunnel è effondrato lì? non è il tunnel, è la ultima galleria prima il tunnel, è stato anche esplosato ora abbiamo una piccola voce di deviazione, passiamo e riprendiamo il Puoi che ci sono attraverso? Sì. 1 luglio 1997 L'aereo lascia il Pakistan verso l'Afghanistan, dove spesso ho preso la guerra per un'avventura. Mirabudin, fedele interprete, accetta di correre nuovi rischi. Bertrand, un amico delle magistrali, professore di storia, ex deputato, farà il tecnico del suono. Ho comprato una videocamera amatoriale per evitare problemi con la polizia pakistana. Mirabudin ha detto Inshallah, riassumendo tutto. Dopo una deviazione a nord e peripezie troppo lunghe da raccontare, decolliamo in questa specie di bara volante, unico mezzo per arrivare all'ultima roccaforte della resistenza di Massoud, la valle del Panjshir. È il mio ottavo viaggio in Afghanistan. Mi ero ripromesso di non tornarci mai più, ma ho sognato troppo questo paese in pace e ho ammirato troppo Massoud per rassegnarmi a leggere sui giornali che si è perso, circondato dai talebani. Filmare è il mio modo di vivere diverse vite, ho sempre amato il cinema, ma temo per l'evoluzione del mio mestiere. Per una volta ho voglia di parlare in prima persona e di rimettermi in discussione, è anche il senso di questo viaggio. Verso Massoud e verso me stesso. L'Afghanistan per me è stato innanzitutto questo. 16, 17, 18 ore di cammino al giorno per settimana, mille chilometri a piedi attraverso l'Indukush. Lungo i sentieri ci guidava un filo sinistro, il sangue dei cavalli che si ferivano sulle rocce. Insieme a questa carovana, che trasportava armi per Massoud e un gruppo di medici francesi, avevamo attraversato il Pakistan settentrionale e varcato clandestinamente il confine proibito. Era il luglio 1981, il primo documentario della mia vita. Filmavo con una cinepresa superotto amatoriale. Il mio compice allora si chiamava Jérôme Boni. Chiamansour, un dei moudjahidini di questo gruppo, è stato vittima di una bomba antipersonale. Le mine antipersonale sono delle mine che sono parachutate, che sono envoyate per le helicoptero soviattico in il paese, un po' di più a la scuola del terreno, e su cui le persone possono andare e essere estropiati. Che cosa potete fare? Ci sono un po' di più a la scuola. questo mi sembra bello, ma è seco, ma è che c'è da l'attente, tu pensi che questo è bello? si è vero? 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 era pericoloso, più di altri mille francesi avrebbero corso gli stessi rischi per sostenere questi afghani a cui tutti ci sentivamo molto vicini, già non era la nostra guerra, tuttavia Valle del Panshir 2 luglio 1997 tutti i soldi sono qui? sì, tutti i soldi sono arrivati ecco, nel Panshir ecco, un'ora e un'ora e un'ora e un'ora di vol, da Mazar Sharif a Bozorak, il villaggio di Djangalak, il villaggio di nostro chef 3 luglio la valle si estende su 100 chilometri, ritrovo gli odori e il tempo afghano come sospeso salam alaikum 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 unica novità, il pronto soccorso della croce rossa internazionale, installato da poco come sei? come sei? come sei? come sei? come sei? Trascorriamo la serata con Massoud. Non lo vedevo da cinque anni. Questa mattina arriva al suo quartier generale, 4 luglio. Massoud non ama le interviste. Gli chiedo di esserci, solo questo. Accetta. Posso filmare quello che voglio, quando voglio, come prima. Massoud, 16 anni fa. Oggi i talebani minacciano l'accesso alla valle. Solo gli ultimi fedeli restano con Massoud. La maggior parte dei suoi compagni sono scomparsi. Altri lo hanno abbandonato, alcuni lo hanno tradito. A tutti i livelli c'è scarsità di funzionario. In Afghanistan la maggior parte delle persone istruite sono morte o hanno lasciato il paese. Questo uomo proviene dalla pianura occupata dai talebani e vi farà ritorno con le armi per preparare la sollevazione. Grazie a tutti. c'è l'office del comando abdulluahid che aveva filmato nel parrandè con il pericolore su un'arma all'epoca della guerriglia contro i sovietici suo padre un audace tuttofare ricomponeva mano in grazie a frammentazione recuperati dai pochi elicotteri abbattuti ecco come il fai date afgano resisteva all'esercito sovietico il coraggio faceva il resto all'occorrenza i martelli sostituivano i percussori nel 1981 Ahmad Shah Massoud aveva 28 anni mi ricordava Che Guevara Geron trovava che assomigliasse a Bob Dylan con il suo fascino e la sua naturale autorevolezza si era imposto in tutta la valle il capo era rispettato l'uomo era amato con lui questi contadini questi artigiani questi commercianti sarebbero diventati dei combattenti dei partigiani della resistenza dei Mujahedin all'inizio mancava tutto e Massoud in persona addestrava i valligiani le téléspectatori occidentali dovrebbero se domandere come una piccola valletta come la vostra con 5000 uomini ma solo 700 armi arriva a tenere a un errore l'armato più vicente del mondo l'armato rouge la prima cosa c'è l'aide di Dio e la seconda cosa c'è che i Mujahedin tutti sono suoi un personaggio si molto coraggio e si sono per la guerra e sono completi come noi in francese completi sono pronti che ora per 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 la guerra il coraggio dei contadini afghani mi esaltava una valle contro un impero il nostro primo film ha contribuito a far conoscere Massoud il guerriero in occidente ma Massoud non era solo un uomo di guerra per evitare che il suo popolo fosse costretto a rifugiarsi nei paesi vicini Massoud creò dei comitati per organizzare i rifornimenti altri comitati per controllare i prezzi la tassazione del commercio dei lapislazzoli e degli smeraldi la valuta e persino le scuole c'era anche un tribunale un carcere di pietra e un centro informazione di fatto si era organizzato per resistere per rifiutare il tipo di società che si voleva imporre con la forza alla sua gente così centomila individui continuavano a vivere qui in questa valle sottoposta ai primi bombardamenti sovietici ho visto e ho filmato tutto questo Massoud si trovato in questo villaggio e a un momento in un momento in una grotta a un'ora, i avuto una volta che eravamo completamente coincii e che non poteva andare a dire a guarda del coro che si chanio si jamais je me fai attraverso che tuer dessus qu'il me m'arrête pas vivant et donc orangement de celui qui sont parti qui sont partis pris la position beaucoup plus loin dans le village d'astana et comme ça ma suite a pu se sauver la vita pas le même ton alors ce que je filme oui c'est c'est plus c'est plus sérieux ça rigole plus la caméra c'est ça si je tourne la caméra dans le sens tu vas être pareil c'est pas facile de filmer je sais de rendre compte naturellement avec moi attention bon et je vais filmer la moisson c'est plus c'est plus È vero, Mirabudin ha ragione, amo filmare i raccolti, amo anche filmare le scuole. A Kabul, sotto la legge dei talebani, la scuola è proibita alle bambine. Qui è mista mai in campagna, come nella capitale, le donne afghane si nascondono agli sguardi degli stranieri. Alhamdulillah, il mio amico è stato fatto, mi ha detto, 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 mi ha detto. Ti ricordi, nel 1984, tutto è stato razzato, tutte le bambine sono razzate. Anche il mio amico è stato razzato, un po' di più. Queste immagini sono state girate da Qahib e Saeed, entrambi feriti immortalmente. Saeed era un giovane afgano rifugiato in Francia, aveva conosciuto Massoud guardando i miei primi film. Valle del Panjshir, giugno 1984, 100 chilometri di rovine. Decisi a sbarazzarsi di Massoud, i generali sovietici avevano adottato misure estreme. Per due settimane di seguito, senza interruzioni, i loro bombardieri avevano sganciato qui tonnellate di bombe. Informato dalle sue spie 24 ore prima del lancio dell'operazione, Massoud fece evacuare l'intera popolazione. Non ci fu neanche una vittima, un miracolo. Queste immagini maldestre, sempre filmate in Super 8, sono le uniche che testimoniano l'entità della devastazione. Eravamo molto lontani dalla guerra spettacolo. Avevo ritrovato Massoud e i suoi compagni sulle montagne, nascosti nelle caverne sovrastanti i loro villaggi distrutti. Non cedevano e continuavano a credere nella vittoria. In questa lotta impari, Dio sembrava il loro solo alleato. La CIA non aveva scelto di schierarsi al loro fianco. Ciò nonostante Massoud otterrà l'impossibile, federare i gruppi dell'Afghanistan nord-orientale. Diventerà un mito il comandante Massoud che sarà soprannominato il Leone del Panjshir. 6 luglio. «Cocò Ashgar, lo avevo filmato nel 1989, qualche mese dopo un avvenimento incredibile. Il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan. Come tutti gli afghani, era molto fiero della vittoria». «Sento questi uomini, stanno ridere di tutto». «Amo questi irriducibili che sanno ridere di tutto».» «Cocò è una russa. Ascoltà da tutti gli uomini, poi c'è la guerra. Non, 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 non. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito 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 www.mesmerism.info in un nuovo porto con il paradigma di un nuovo porto con il paquistano e c'è una donna di cui il cibo di nome è un peccato del caso è un peccato ma il peccato è un peccato ma il bambardo il bambardo per il pallone o il bambardo è un peccato Massoud mi presta il suo telefono satellitare per chiamare casa in Francia. Mio padre era malato. Apprendo la sua morte qui, in questo piccolo ufficio dove si parla solo di guerra. Mio padre amava questi campi. Mio padre che mi ha tanto appoggiato. 8 luglio. In tutti i villaggi del Panjshir c'è attesa. È una sensazione molto curiosa. Tutto sembra rallentato, quasi congelato. Nella pianura di Shamaali, situata dopo le gole che segnano l'entrata nella valle, la pressione dei talebani è permanente. Per i panjshiri che si trovano in prima linea, i combattimenti sono faticosi. Abbiamo avuto molti blessi sui tiri di artillerie, di morti nel villaggio. Quindi c'è anche dei mujahideen, ma anche dei abitanti del villaggio, di Golbor, Jabal, Sabah, che hanno sempre stato toccato. E non ci sono molto male di fare la guerra civile tra gli afghans? Non, in realtà. Ma non è finita, ma non è finita. Non è finita, n'essayò di parlare di Afghans. Non c'erano ancora le pochettine, non in Italia. Ma è sicuramente, ma sono i sottotitoli, soprattutto gli pakistanci. E prima erano gli russi? Non c'erano gli russi. Non c'erano gli russi, ma ora ci sono i pakistanci. E non c'erano le pochettino? Noi, non c'erano gli russi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 9 luglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amo gli afghani, ascoltare la loro poesia, individualisti spesso spacconi che non hanno niente dei fanatici religiosi. Hanno persino saputo conservare quello che noi stiamo perdendo, il senso della comunità, il rispetto degli anziani e la fierezza di un popolo mai colonizzato. I sovietici hanno distrutto questo mondo. Un milione e mezzo di afghani sono morti, tre milioni vivono ancora oggi in esilio. Per dieci anni i sovietici si sono accaniti per imporre a questo popolo una visione del mondo che gli afghani non capivano. in Afghanistan i sovietici hanno esacerbato l'islam politico, ma così facendo si sono persi. Oggi uno strano incontro con questi uomini. Giornalisti russi accolti con gentilezza come degli ospiti da coloro che un tempo consideravano dei barbari. Sono venuti ad intervistare Massoud. Ho l'impressione di filmare una specie di rappresentazione teatrale, dei russi ex sovietici. Una videocamera giapponese, una sedia afghana. Per il suono scelgono il posto peggiore. Ora la commedia può iniziare. Arriva il protagonista dopo un'attesa di tre ore. Massoud ha accettato di farsi intervistare perché i russi oggi gli forniscono armi e munizioni senza cui non potrebbe lottare. Mi lancia uno sguardo. Il programma di attualità del primo canale televisivo russo per cui lavorano questi giornalisti si chiama Top Secret. Registreranno due ore di dibattito geopolitico. Massoud rivelerà un segreto. All'epoca della guerriglia alcuni generali sovietici gli mandavano direttamente delle informazioni. Noi lo sapevamo già, ma la televisione russa ha il suo scoop e anche la sua preghiera. Il programma di attualità della televisione russa ha un problema dell'elettricità. Quindi, lo dovremo allumerare un gruppo elettrogène per continuare l'interview. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Russi, afghani, i segni di una guerra. Turbine di follia iniziato nel dicembre 1979. Dia ce lullio. Russi, afghani, i segni di una guerra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che cosa era successo? Massoud, il liberatore, aveva ceduto il potere ai politici. In quel nido di vipere dove ciascuno pensava solo ai suoi interessi, Hekmatyar, l'uomo dei pakistani appoggiato dagli americani, nemico di Massoud, si era messo a bombardare a tappeto la città, senza pietà per la popolazione. Una strada di Kabul filmata nel luglio 1990. La stessa strada nel luglio 1993. A Kabul l'immagine dell'eroe Mujahed che lotta per la fede e per la pace è distrutta per sempre. Circolavano enormi quantitativi di armi. I miei amici si vergognavano. Anch'io. Ricordo questa parodia di protocollo per uno stato afgano in embrione. Avevamo atteso per ore un certo Kari Baba, un Pashtù che veniva da una città del sud. Filma a Youngblood. Anche questa assemblea sembrava la caverna di Ali Baba. I discorsi sulla pace non finivano mai. Ognuno lanciava in aria parole inconsistenti come bolle di sapore. Molti degli uomini presenti dei Pashtù del sud, che si considerano gli unici veri afghani, diventeranno talebani. Massoud rimase in silenzio. Lui è Tajik, fedele a Rabbani, quest'uomo, presidente di un governo di incompetenti e di corrotti. Massoud era stato nominato ministro della difesa e generale. Hekmatyar continuava a far lanciare su Kabul fino a 2000 razze al giorno. La verità è che i pakistani temevano Massoud, considerato troppo indipendente. Senza aiuti esterni, Massoud si trovò incapace di porre fine al conflitto. Ostinatamente tentava di creare delle alleanze e faceva il diplomatico, nonostante avesse rifiutato la nomina di presidente. Non era mai stato in occidente e nessun afgano educato all'estero voleva tornare nella fornace. La pace afghana era ormai solo un sogno. Alleati oggi, nemici domani, tutti invocavano Allah. Tutti erano armati. La maggior parte erano manovrati. In retroscena del conflitto restavano oscuri. La mia cinepresa coglieva solo le polveri. Ecco come avevo filmato Kabul. Kabul alla fine del mondo. Forno. Grazie a tutti. 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 Ma perché? Come? E in quale deserto? La situazione sarebbe peggiorata. Poco dopo la televisione ne avrebbe sparso qualche immagine in tutto il mondo. Queste erano state filmate da Laurent Hamidat, giornalista coraggioso che ha rischiato la vita per pochi e rari minuti di informazione televisiva del tutto inutile. Massoud aveva finalmente respinto Hekmatyar di cui i pakistani si erano disfatti a favore dei talebani. Nel 95 gli uomini di Massoud sparavano sui distretti occidentali di Kabul, dove i talebani cercavano di avanzare. Massoud non ha saputo prendere il potere, né porre fine alla guerra. Prigioniero della guerra sarà scavalcato dai giochi politici degli uni e degli altri. Da allora provo orrore per questi gesti di vittoria con le rovine sullo sfondo. Nel settembre 1996, per evitare un altro bagno di sangue, Massoud abbandona Kabul. I talebani assumono il controllo di 20 delle 30 province del paese. A poco a poco emerge il loro vero volto. La poesia, la musica, il canto degli uccelli, gli aquiloni, la televisione, la radio, tutto è proibito tranne la preghiera. Le donne non hanno più diritto di studiare, né di lavorare, né di ricevere cure mediche. Nasce una nuova dittatura, finanziata dai pakistani, dai sauditi e dagli americani. Alla fine, in Afghanistan, costoro hanno appoggiato solo gli estremisti. La follia. Malgrado questa guerra apparentemente civile, si perfeziona il progetto per un gasdotto. Deve consentire di portare il gas dal Turkmenistan fino ai porti pakistani attraverso l'Afghanistan. Due società americano-saudite, la UNO-Kal e la Delta, sono a Kabul per trattare con i talebani e coprirli di dollari. Afghanistan, paese di luce e di bellezza, diceva una guida turistica venti anni fa. Afghanistan, paese di narratori e di saggi, di poeti, di cavalieri e di vasai. Paese dei bei tappeti e dei mosaici preziosi. 11 luglio. Un'altra parte della guerra è la kualità per l'indizia. Un'altra parte della guerra è la prima parte del settore. Un'altra parte della guerra è la prima parte dell'indizia. che hanno stato obbligato di quitter la capitale. C'è questo che durante 4-5 anni non hanno riuscito a montare un governo e a cercare la paia. La guerra d'Afghanistan dura più di 19 anni. E durante 19 anni, a parte di formare dei combattanti, dei militari, abbiamo avuto molto po' di cadere politiche, di cadere administrativi. Questa mattina, Massoud è partito per il fronte. All'entrata della valle del Panjshir, queste gole sono state teatro di feroci combattimenti qualche mese fa, quando i talevani intendevano eliminare Massoud. Per fermarli, lui ha fatto saltare le pareti. La strada è praticabile solo a piedi. Se gli uomini del genio la ripristinano, se sarà lanciata un'offensiva, i camion dovranno trasportare rinforzi e munizioni. Ma quando? Nessuno lo sa. Dalla pianura dove si trova la linea del fronte, ci vengono a prendere con dei mezzi di fortuna. Diventerà molto pericoloso, ma senza spettacolarità. È così. La strada è stata fatta di un'offensiva, Non c'est du malo? Non, hai mai un ucciso? Hai c'è un po' che diceva che ha pesante, che c'è da delle due ore... Ma va arrivare a un village, come ceci, l'improviste, e ci sono gli dati che donano la cottura per Massoud e i Mujahideen. Si, è quello, questo è un village che è scoppito per i combattini, le persone arrivano per una volta in qualche giorno... e mentre i combattano qui restano qui? sì, adesso sono tornati in l'orbiddo perché si basa a 5 km? sì, nel nord, 24 km da linea di fronte le posizionale è basso quando i amici, i amici 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 gli amici i amici se hanno il teso i amici i amici i amici i amici, gli amici i amici e li recio il lavoro del nostro per nuovo e ora ci vediamo la facoltà le facoltà l'abbiamo il è l'abbiamo mi ha fatto dire che i fai magari stessi sono stati in un po' di calcio il giro è stato fatto sono stati in un'altra parte come si è avvicinato come si è avvicinato come si è avvicinato Sì, siamo in grado di Bagram. isa abbassare miglia in assad aziko choro per metà tip sarsali posta Massoud ha condotto molte battaglie, come questa con Panah, uno dei suoi fedeli compagni, filmata nel 1987. Panah è stato assassinato come molti altri. Panah fa parte di quelli che ho conosciuto, amava giocare a scacchi e raccontare barzellette. Ricordo il suo sorriso. Miral, hai l'aeroporto della linea del front? Sì, abbiamo fatto una visita rapida di posizioni a approcciare, quindi andiamo a ripartire. Là fa l'è vite perché l'on'è esposé là. Allora, bisogna ripartire, perché l'on'è estremamente rapprochata. Ok. E fanno fare il fronte più o meno. On'y va vite. 12 luglio. I comandanti delle unità sono stati convocati da Massoud. La mia famiglia è stata fatta. ... ... ... ... ... Il Signore di Gesù, il Signore di Gesù, e farci in modo cominciato, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info L'offensiva sarà sferrata tra poco. Siamo gli unici testimoni. Giorno dopo giorno, filmo i preparativi. Sono lunghi, lenti e difficili da descrivere. Arrivano le munizioni, per uccidere e ferire ancora. Sono insufficienti secondo i comandanti. A 4 chilometri dalle postazioni dei talevani, tutti sono coinvolti. La strada è stata ripristinata. Nessuno sa quando o come sarà lanciata l'operazione. Un giorno dicono che è annullata, il seguente che è posticipata. Spetta solo a Massoud decidere. Non smette mai di lavorare. Male assistito deve fare tutto da solo. Vuole riconquistare la capitale, Kabul. Questo frutto velenoso che attira, nonostante i suoi pericoli. Mi tornano in mente le immagini del mio amico Laurent, di afghani che combattevano tra le rovine per delle pietre, senza capire il motivo. Non ho più occasione di restare solo con Massoud. Decido di scrivergli. Caro comandante Massoud, la prima volta che ti ho incontrato, chiedo a Massoud di rivelare almeno una volta quello che prova per questa storia di cui è l'attore. Perché tornare a Kabul, dove tutto è a pezzi? Come si può fare una guerra per 19 anni senza perdersi? Che parli della morte dei suoi compagni, dei suoi sogni di pace, della sua famiglia, di suo figlio e delle sue tre figlie? Che si confidi? Sì, altrimenti io farò solo un altro film sulla sua leggenda di capo guerriero. 14 luglio. La mia lettera per Massoud è nella tasca di Mirabudin, mentre attraversiamo il fiume per recarci all'invito di un vecchio amico. L'offensiva non avrà luogo oggi, poiché le munizioni non arrivano abbastanza in fretta. Ai tempi dei sovietici, Jean Mohamed si occupava dei convogli segreti. Sua moglie e sua nuora ci hanno preparato un banchetto, ma come impone la tradizione non le vedremo. Jean Mohamed è famoso per i suoi racconti. Vorrei che mi raccontasse come, quando i talebani tentarono di penetrare nel Panjshir, Massoud chiamò a raccolta quelli che non erano fuggiti per annunciare che avrebbe lottato al loro fianco fino alla morte e molti avevano pianto. Nessuno osa raccontarlo di fronte alla cinepresa, neppure Mohamed preferisce fare ascoltare il triste suono del Rebab. Via! Prima che ci lasci, lo persuado a fare un altro sforzo per farsi filmare. Salome. Mettiamo in scena la sua entrata. E' andato a prendere una foto ricordo di 18 anni prima. A presto. Ma questa è una persona che si rascoltata, Come un'ultima che sono rascoltata. Elezione che si rascoltata, è per fare la sua scena. E l'ultima che fosse era rascoltata. La mia cosa è stata rascoltata. Il fuor è rascoltata. E l'ultima che è stata rascoltata. So, l'ultima che si rascoltata, Essa è una cosa che non è rascoltata. E la quattro di vettura il governo è stato rascoltato. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 I Mujahedin hanno il loro inno di battaglia, cantano Allah e il suo profeta. Io voglio solo filmare il coraggio di questi contadini, il cui eroe è Massoud. Delle mie letture sulla seconda guerra mondiale conservo l'immagine torbida di una Francia un po' vergognosa, piuttosto passiva, abbastanza collaborazionista, eccezionalmente resistente. All'epoca sognavo ancora di fare film che influissero sulla storia, credevo nella giustizia. Il mio cinema divenne alquanto partigiano. L'obiettività giornalistica mi sembrava sospetta, una pretesa alquanto ipocrita. Alcuni miei amici sono morti facendo la stessa cosa che faccio io. Andy Skriposkoviak, per citarne uno, assassinato dagli uomini di Hekmatyar, per aver creduto fosse possibile, testimoniando, distruggere i demoni che impediscono all'uomo di essere in pace con se stesso e con gli altri. Solo sogni. Il mio ciòpito è stato benissimo, ed è un po' sottompsi. All'un po' sottompsi. un po' sottompsi. Si, non so, ha. Il mio ciòpito, è un po' sottompsi. No, no, no. Mi piacciono questi istanti di abbandono. 16 luglio. Attendiamo un'auto per andare in una località segreta da dove Massoud sferrerà l'attacco. Vedo Mirabudin estrarre la mia lettera dalla tasca. Non c'è il momento. Non c'è il momento. Non c'è il momento. Non c'è il momento. Attorno a noi gli uomini si spazientiscono. Massoud non ha fretta e racconta un episodio dei tempi della guerra contro i sovietici. Non c'è il momento. C'è il momento. Non c'è il momento. nella pianura da giorni migliaia di uomini aspettano il segnale per partire all'assalto dei talebani che importa la mia lettera la postazione radio di massud in cima a una montagna che sovrasta la pianura di sciamali l'offensiva è imminente la situazione di Pudu e la posizione dei commenti ha creato un certo numero problemi e questo è tutto il senso che la mia lettera non è vero se si non la mia position non è vero io ti ringrazio a tutti i uomini del nord di lavorare per l'Italia C'est incredibile. Continuiamo a fare la guerra, continuiamo. Ma ci sono le persone a l'interno non lo capire, che Agmatier ha cessato di attaccare senza cese. Il 17 luglio 1997, le 5 del mattino. Massoud dorme su una pietra. Il 17 luglio di L Videoglielo. Buongiorno, buongiorno. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Le prime linee dei talebani sono state sfondate. Gli uomini di Massoud hanno riconquistato 40 chilometri di territorio. L'entrata alla valle del Panjshir sgombra. Il nostro corso gratuito è stato fatto in questa regione. Abbiamo avuto un po' di fortificazioni talebani fino a questo mattino. Non possiamo passare a questa luce a ancora 24 ore. Soussa. Soussa. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Non è un po' di più, perché non ha fatto il suo lavoro, ma non ha fatto più di più, ma non ha fatto più di più. Ora, non è un po' di più. È un po' di più. Non è un po' di più. Ma è un po' di più. Perché abbiamo trovato il paziente, è un po' di più. Abbiamo trovato il paakistanismo. È un po' di più. ad essere sincero non sono venuto in Afghanistan solo per gli afghani ma anche per sfuggire all'arroganza del mondo a cui appartengo, alle tecnologie tanto avanzate e alla qualità di vita tanto degradata, troppo egoismo, troppa sete di profitto e di piccoli poteri grazie a tutti Il y a d'autres corps. Bonsoir la colere dei jambi. La colere dei jambi. In Afghanistan non ho mostrato i mercanti di armi, i trafficanti di droga e le manovre politiche. Ho filmato quello che ho amato. In questo paese, più che altrove, ho vissuto i momenti più inebrianti della mia vita. Ho anche scoperto questa cosa preziosa che mi consente ancora di tenere in mano una macchina da presa, malgrado la mia vertigine in questo mondo di immagini. Per me un film sarà sempre come un filo fragile che ci lega gli uni agli altri. Durante una ripresa nell'89, Christophe Piccard mi prese la cinepresa dalle mani per girare le sue prime inquadrature. Eccomi nel film, per i posteri. Quoi ci sono? Non c'est... No, no, le tat sono su, ma... L'ita è il probleme. Ancignano il ricco? Ah, allora, sarà tourna. Beh, allora? No. Allora. Il fa com'è molto freddo. Il fa com'è molto, molto freddo. Il col d'Azard è 5,4 mm. Il è cotto a monti. Ma ora va. Ci sono i mali qui sono là-bas. Ci sono andati a descendere e andare a Massoud. Non, non è ancora arrivato. Non, non, è ancora arrivato a Goulbar. C'è l'entrì della ville di Charika. Quindi ci siamo a 74 km di Kabù? Non, circa 60-65 km. C'è il va rade l'essence? A presto. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a l'uniforme. Il y a l'uniforme. Di Cosa. Cosa? 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 A Sharikar gli uomini hanno un solo pensiero, andare a Kabul. Io penso ai miei figli. Scappando, i talebani hanno saccheggiato la città e distrutto i condotti d'acqua. Nel nuovo quartier generale dei Mujahedin, dei prigionieri talebani, tra cui si trovano alcuni pakistani, sono stati nascosti in cantina per proteggerli dalla popolazione che li vuole morti. Di notte saranno discretamente trasferiti nell'alta valle del Panjshir per servire da merce di scambio. Lungo la strada abbiamo visto vinciare un uomo. Lungo la strada è un uomo. I comandanti preparano l'avanzata. Ci riferiscono che i talebani fanno un tiro di sbarramento a 10 chilometri. Decido con Bertrand di non andare a filmare la zona dei combattimenti. E poi sono arrivati i giornalisti televisivi. Correrei anche dei rischi. La riconquista di Kabul. Tornerò più avanti a filmare finalmente la pace. Al tramonto Massoud convoca i suoi comandanti nella prefettura. Questa è la bandiera dei talebani che Mirabudina ha estratto da un armadio dietro mia richiesta. La luce sta calando, filmo come posso. La luce sta calando. La luce sta calando. La luce sta calando. Il nostro corso www.mesmerism.info www.mesmerism.info Sono trascorsi sei mesi, sono tornato come promesso. Nel dicembre del 97 l'offensiva di luglio è a malapena un ricordo. L'entrata nella valle del Panjshir è stata liberata, ma i talibani mantengono il controllo di Kabul. Massoud ha rinunciato all'attacco poiché non si è potuto costituire alcun governo di Mujahedin. Sono arrivati alcuni giornalisti e sono ripartiti. Fa freddo, quindi non è un caso che sembri tutto congelato e calmo, ma non è la pace. Ritrovo Massoud nel suo ufficio, sempre assillato da migliaia di richieste degli uni e degli altri. Michel, l'amico che mi accompagna, scatta queste foto mentre io gli offro dei piccoli regali molto simbolici. Una boule de neige con Notre Dame e un modellino della Torre Eiffel. Parliamo, io filmo. Ma come è riuscito a non rispondere alla mia lettera, il pudico Massoud si tiene per sé il suo stato d'animo. Davanti alla cinepresa con un tono monocorde tiene un discorso politico. Niente sui suoi sentimenti. Appoggio la cinepresa. Non saresti dovuto andare all'estero? Gli chiedo. Saresti stato applaudito dal congresso americano. Oggi il mondo funziona così. Sì, la politica viene venduta come un detersivo. Se avessi imparato l'inglese, saresti apparso su tutte le televisioni e chissà, forse avresti modificato il corso della storia. È calata la sera, Massoud l'afgano sorride e se ne va. Nell'agosto del 1998, i talebani assumono quasi tutto il controllo dell'Afghanistan. Massoud continua tenacemente a resistere, ma ora è circondato ed è solo. Io spero che quando questo film sarà mostrato, Massoud sia ancora vivo. Afghanistan, paese lontano, in guerra. A nessuno interessa o quasi. Finisco questo film come una bottiglia gettata in mare. Finisco questo film come una bottiglia gettata in mare. Finisco questo film come una bottiglia gettata in mare. Finisco questo film come una bottiglia gettata in mare. Finisco questo film come una bottiglia gettata in mare. Grazie a tutti.